Messaggio promozionale a scopo educativo. A causa della crisi economica, banche e finanza non vogliono distribuire il loro denaro. Le aziende private sono in sofferenza, ma una soluzione c'è e guarda al futuro, forte del suo passato. È la schiavitù. Con la schiavitù aiuti le aziende a fare più profitto e quindi aumenta la ricchezza. Con la schiavitù non dovrai più studiare, sarà il mercato a decidere la tua vita. La schiavitù ti libera da ogni scelta e aiuta il paese a diventare grande. Schiavitù guadagnano in pochi, lavori tu. È una campagna di disumanizzazione.